Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come vi avevo anticipato quest'oggi nuovo video con le nuove canne Dunque mi raccomando ragazzi prima di guardare le canne mi raccomando superiamo i 120 mi piace per questo video Adesso non so quando uscirà bene questo video quindi non posso dirvi però tenete d'occhio il canale perchè ci saranno dei bei video Dunque mi raccomando ragazzi lasciatela e condividete i video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti perchè ci sono tanti che guardano i video e non si iscrivono Mi raccomando iscrivetevi per non perdervi tanti contenuti perchè ne arriveranno di veramente epici Direi di non perdere l'altro tempo e via con la sigla Allora ragazzi quest'oggi 4 canne da farvi vedere 4 nuove canne che andranno... 2 andranno a sostituire Una sarà aggiuntiva diciamo e un'altra sarà per una nuova tecnica diciamo Partiamo con quella nuova che così vi spiego un po' meglio La prima canna in questione è la Seika Tekkan RC La Tekkan RC è una canna è una serie di canne fatta per la pesca al calamaro Con una portata massima di 150 grammi però la versione RC se non mi ricordo male è la versione con il manico per la bobina rotante Oltre per le battute classiche questa canna allora intanto guardate che statica soprattutto si avvina con lo sfondo Doppio anello sulla base Sea Guide Che possiamo anche togliere Ok Manico veramente bellissimo Possiamo togliere anche la copertura qua Anzi no Questa è fatta appositamente per la pesca rotante E perchè l'ho presa? Perchè a breve Adesso non so quando rispetto a voi Andrò a fare il campionato italiano Mare kayak promozionale E questa mi servirà Per pescare a sugarelli sgombri E chi più ne ha ne metta Non so dopo cosa mangerà Pescando con la bobina rotante A sabichi Come sapete io vado meglio a pescare a sabichi con una canna a molinello rotante Perchè la gestibilità del bobina rotante rispetto al bobina al molinello classico E' superiore secondo me e mi trovo anche meglio Quindi questa che è una canna che porta fino a 150 grammi Quindi potrò utilizzare anche io normalmente perchè io normalmente uso 150 grammi E' molto sensibile E' anche una bella schiena in modo da tirar su anche gli sgombri tombarelli Che mi si attaccano di solito Sarà la mia arma principale per il campionato italiano Sperando di fare un bel risultato Però vedrete col tempo Questa canna tra l'altro essendo fatta per i calamari E' dotata della punta Moon Ovvero che con la luce Si carica e dopo si vede anche di notte Ovviamente per la pesca al calamaro Una bella canna tosta eh Perchè deve tirar su pesci importanti E questo infatti mi aiuterà tanto Sulla pesca di velocità A sabichi Dei sugarelli Degli sgombri eccetera E soprattutto finalmente una canna da casting In cui pescarli E' abbastanza rapida in modo che Posso fare delle belle gercate E far lavorare i miei sabichi Che faccio io In maniera ottimale C'è anche la versione Per rimulire lo spinning Se volete fare i calamari E' una canna che non costa tanto Ma Andremo a provarla presto Di avanti con una canna Che andrà a sostituire Una mia vecchia canna Che diciamo E' la versione dopo Adesso vi spiego meglio In questo caso E' la Mimic La Mimic Praticamente E' l'evoluzione Della Optical Sono state cambiate Un paio di misure Ed è stata alleggerita E' cambiata L'estetica Per questo non è un Optical V2 Una nuova canna E' stata cambiata l'azione E adesso la tiro fuori Così capite anche voi Adesso non mi ricordo Di quanti grammi Ci sono di differenza Però C'è una Differenza Cioè Visibile Questa è la nuova Mimic Canna Nuova canna Solid A manico corto Per la pesca Light Questo bel manico Mimetico Che apprezzo molto Con queste nuove Impugnature Che sono Il nuovo standard Per il 2021 Legatura In questo giallo fluo Che ricorda molto il viral Il trecciato viral E Tiriamo fuori anche Il secondo pezzo Questa in particolare È la 1,6 grammi 2,20 metri Che è La misura minima Come lunghezza Però Non come peso Questa canna In particolare La userò A drop shot In particolare E gommine leggere Puntina Bella sensibile Come stavo dicendo Gommine leggere Tutto Quella questione La Che in pratica È la pesca reale La pesca Il cavedano La carpa Volendo Però Non volevo portarla A fast fish In questa canna qua Ricorda molto La optical Cioè È la Sorellina nuova La optical Però L'azione Cambia Ha una schiena Molto più progressiva Quindi Riesce a gestire Meglio il pesce È più leggera Come ho detto Prima Adesso non mi ricordo I dati precisi Però Cambiano C'è qualche Grammo di differenza E questa canna In particolare L'andrò ad abbinare Al mio Drex 2000 Che ci fa una bella Coppiata visivamente Abbinato ovviamente Al viral Come vi dicevo Vabbè qua è un po' Consumato Perché è stato utilizzato Guardate ci sta Perfetta È un'ottima Intorno al 100 euro Vi portate a casa Questa combo Che non è affatto male Ragazzi E questa Mi servirà per la pesca Dropshot Quest'anno Che Ci saranno Delle belle garette In nazionale Quindi Volevo un attrezzo Molto sensibile Per pescare Soprattutto con Esche leggere Finesse E se avete visto Anche l'altro video Ad utilizzare il jazz Entra nel mio versione Da spinning 2021 Passiamo a un'altra Novità del 2021 Queste Le ultime due Sono sorelle Quasi gemelle E questa L'ho presa Perché Questa insieme All'altra Mi serviranno Molto Per varie pesche Vediamo un attimo Ecco qua La prima parte Come vedete Stesso manico Parlo della secca Blackwater Canna Che ho rotto Molto le palle Lassù Per farla fare E' una canna Che mancava A catalogo secca Fast Perfetta Quindi per pescare Un po' tutto C'ha una grammatura Veramente Ampia Che può partire Dal cavedano Comunque Light rock fishing Comunque Tutti gli approcci light Fino anche A pesci Importanti Puoi fare Serra Puoi fare Barracuda Puoi fare La marmorata E con un'estetica Vogliamo mettere Questa in particolare E' la 2.10 La versione più corta 0.10 grammi Quindi abbastanza leggera L'ho presa per fare Il cavedano Per fare la trota Per fare il reale Perché questa canna Essendo fast Questa è una cosa importante Anche per il perca Essendo fast Ti dà una risposta Alla mangiata Molto più Cioè Ti dà una bella risposta Alla mangiata Perché ti trasmette Tutta La tocca Direttamente in mano Canna tubolar Utilizzerò sia Gomma Grossa O magari drop shot Pesanti Ma soprattutto A dart bait Queste canne Sono fatte Appositamente Per Jack Mino Sono fatte apposta Top water Soprattutto Queste Canne Faranno Dei bei pesci Quest'anno Ve lo assicuro Sono veramente contento Che sia finalmente uscita Come vedete Annelli K Ponte lungo Ed è una canna Veramente leggera Proprio come la volevo Girando in internet Ho visto che Molta gente Ne è rimasta Soddisfatte Sono veramente felice È una canna che mancava E soprattutto Soddisferà Molte persone Quindi fidatevi Provatela Che questa canna Ha del gran potenziale E costa veramente poco Infine Abbiamo la sua sorella Sempre Due metri e dieci Che però Questa Andrà a sostituire La spirit Perché È la 520 Vediamo qua sotto Eccola qua Sono molto simili Hanno una punta Veramente Rapida Che Dà Completo Contatto Con quello che c'è All'altro capo Trasmette tutto Direttamente Non assorbe E eccola qua Completamente uguale Bello di queste canne Che la grafica Troviamo qua Sulla scritta È diversa Per ogni canna Ed è una particolarità Che apprezzo Perché rende ogni canna Unica Questa come dico Come ho detto prima Sostituire la spirit Con i perk Con i cavetani Bass E reali E chi più ne ha Più ne metta A queste due canne Andrò a abbinare Sulla 520 Il redon Della spirit Che ci fa un bel figurino Assieme E alla 010 Ti metterò L'arias Così anche per distinguerle Perché se no Prendo su una canna Per l'altra Anche se Un bel viral Ci starebbe benissimo Su Questa canna Ecco qua Top Sono canne Che veramente Vi consiglio E che tra poco Vedrete In pesca Vi dico Provatele E dopo Rimarrete Innamorati anche voi Dunque mi raccomando Ragazzi Lasciate like Condividete i video Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Mi raccomando Superiamo i 120 Mi piace Per questo video Non resta che Mandarvi al prossimo video Dunque direi Che per questo video È tutto Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.